Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba domenicale del 26 maggio 2024, Juve 11 a 2 a 0, è finito il campionato, loro sono in vacanza. Beati loro, noi no, voi no. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Clamorosa svolta, è il solito balzer delle panchine. Conte sprint a Napoli. Ah, 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 intesa, ma è così vicina. Pressing della Aurentis, può chiudere? Può chiudere, può chiudere, è vicino. Mentre Pioli fa la festa d'addio, abbracci e lacrime a San Siro, ora toccherà a Fonseca. Questo fuoco lo terrò acceso, dice lui, a lui è stato concesso il giro finale. Sa chi interviene? Speravo di più. Un nome più importante, non Fonseca. Auguri, già battezzato. Montero, che dopo due panchine torna di nuovo con la primavera, dice questa Juve ha carattere. La Juve è sul podio, Atalanta-Dorino decide l'Europa, ma decide anche il terzo posto, perché l'Atalanta è a meno cinque punti dalla Juve, ma ha due partite da giocare. Col Toro oggi e poi con la Fiorentina, il recupero. Signora, così piaci, eh? Così piaci. Montero sette in pagella, Giallo è veloce, Ildiz è un talento come Del Piero. Ah, però, leader si nasce, dice lui. Partita che però, diciamocelo, non contava niente, eh? Coraggio, super chiesa e tridente. Questa Juve convince. Il Montero si scioglie subito. Intanto a Milano, sull'altra sponda. Il fondo di ritorno a Milano, scrive già UEFA e FIFA. La continuità dell'amicizia si sono già portati avanti. E anche al presidente del Senato, la rossa! Quello che diciamo non ha proprio in simpatia la Juventus. Andiamo a vedere tutto sport, cosa ci racconta. La Juve ha futuro. A te, Motta! Montero lascia con il 2-0 al Monza, perdon, e un messaggio. Il gol di chiesa è Alexandro, la festa d'addio per lui, che ha chiuso con il record di presenza per gli stranieri insieme a Neppet. E i giovani. Riparte l'ottimismo. Ildiz ha il talento di Del Piero. Giallo è da Juve, dice Montero. Mi sembrano queste due giornate di Montero, non so se ve lo ricordate, le due di Ranieri, sostituito nelle ultime due da Ferrara, perché sembrava non si potesse più qualificare per la Champions, due partite di fine campionato. E qua è successa un po' la stessa cosa, con fuochi sotto il tappeto un po' diversi. Boato per Di Gregorio, premiato come migliore portiere della stagione in Serie A, il portiere del Monza, va a salutare la curva nel settore ospiti, i suoi tifosi ormai del Monza, e Vlauvi ci uscendo gli dice qualcosa, così per non far vedere il labbiare, che sembra un po' essere ci vediamo l'anno prossimo. È il primo acquisto di Giuntoli, diciamolo. Rabiot, fiducia per il rinnovo. Ora tocca a mamma Veronique. Giraudo allo stadio dopo 18 anni, i tifosi dicono grazie, oltre che per i successi della Triede, anche perché lo stadio, diciamolo, è un po' merito suo. Juve sono prove di futuro, ma che rimpianto. Fagioli otto in pagella. Il centrocampista ha colpito una traversa, mostrando talento e capacità di innescare il Tridente d'attacco. Ma noi lo stiamo raccontando da mesi. Se ci fosse stato il centrocampo titolare, Pogba, Rabiot e Fagioli, forse, dico forse, sarebbe cambiata la stagione, magari davanti avrebbero segnato di più, perché quando Fagioli fa lo scavetto e mette chiesa davanti al portiere, lì è pura tecnica, qualità e anche istinto, che magari altri centrocampisti non me ne vogliono, ma non hanno. I bianconeri ritrovano un successo in campionato dopo oltre un mese e mezzo di astinenza. 41,9% il possesso della Juve, poco. 12 tiri per parte, 4 dentro lo specchio per parte. Sapete che le traverse non contano. Se uno non ha visto la partita e legge le statistiche, pensa, ah, partita pari, anzi, più possesso polla al Monza, ma non funziona così, le palle gol vere le ha avute la Juve da strameritato. Le statistiche non ci rendono mai la verità di quello che accade durante le partite. Cori della curva per Allegri. Brillante anche Pinsoglio, che entra in campo, fa due belle paratine nel secondo tempo, si piglia un bel 7,5. In pagella, Alexandro, addio da film, un viaggio bellissimo, dice lui, lo ringrazio anche io personalmente, che ci ho fatto un viaggio in jeep meraviglioso, soprattutto quando mi raccontava della bimba che voleva Natale, JJ, la mascotte della Juve, che cantava l'inno della Juve, grande Alexandro, persona meravigliosa. Alla Juve mi sono sentito davvero in famiglia, dice lui, e il mio cuore resta qui. Anno difficile, ma la Coppa Italia per la Juve ha aperto un nuovo ciclo. Vediamo cosa dice il Corriere dello Sport. Stadio, tutto su Conte, Gasperini ci ripensa e resta l'Atalanta, il Napoli va subito su Antonio, ma c'è una distanza da colmare. Quale? Serve uno stipendio alla Osi, 20 lordi preso lo staff, 20 lordi sono tanti, stipendio alla Osi, vabbè basta fare una più svarenza, non c'è qualcuno fittizio nello staff per abbassare il monte in gaggio, è semplice, tanto lì si può, è sempre più chiesa, 7 in pagella, Juve 2 a 0 contro il Monza, Montero chiude con una vittoria, qui c'è un gruppo di uomini veri, insiste lui, ancora segno all'esterno azzurro. Alexandro fa 327 presenze, come Nedve, gol, e lacrime da dio, si piglia pure 7 in pagella, oltre al gol, bellissimo, ha l'Alexandro, ne ha segnati 16, tra l'altro, di gol, lui, c'è stata una partita molto valida di Alexandro, il Monza va a K.O. tra il 26esimo e il 28esimo, in due minuti, poi, poi, l'Allianz saluta i bianconeri, dopo aver passato più o meno la partita in silenzio, senza striscioni, senza cori, senza tamburi. Palladino chiude 13esimo, era invidioso di De Zerbi in Premier, Gialli e OFR finale, una bella on-field review, la Ferrieri Caputti, non sbaglia, e perché gli dai 6 in pagella? Se non sbagli dagli 7. UEA Mota, possibile rigore, va al monitor, e pesca il braccio di Pessina, che in precedenza va, a contrasto con Nicolussi Caviglia, fa fallo di mano. Ci voleva una donna per avere una on-field review, quantomeno favorevole, tu pensa come abbiamo dovuto finire l'annata, perché se era per i suoi colleghi, la Juve al VAR non ha mai ricevuto quanto era dovuto. Chiudiamo con i politici, Corriere della Sera, lacrime, sorrisi, e terzo posto, la Juve vince dopo 48 giorni, e sono tanti, piegato il Monza con Chiesa e Sandro, 9 gol in campionato, è il record personale per Chiesa, Fagioli ripaga la fiducia, di Spalletti. Nell'edizione di Torino la Juve è già in ferie e il Toro sogna, perché i bianconeri chiudono la stagione, via, i Granata inseguono ancora l'Europa, ah perché il nono posto da confermare, in attesa della finale della Fiorentina di Conference, devono giocare contro l'Atalanta, è tutto un miscuglio, ma poi c'è anche la corsa a salvezza, Empoli-Udinese distanti di un punto, la Roma che va a Empoli, non ha gradito, dicono quando l'Empoli ha votato contro il far spostare il recupero, i famosi 20 minuti con l'Udinese a fine campionato che la Roma aveva la Coppa e quindi De Rossi ha partito in conferenza soltanto dell'Empoli, perché li vuole battere, insomma, corsi e ricorsi a volte storici. Montero dice, campioni e uomini veri, la squadra è forte, bene, allora se abbiamo una squadra forte, adesso lo vedremo dal mercato, se è forte, bastano un paio di inesti, certo che se siamo partiti dal comprare il portiere, che è l'unico ruolo di cui non avremmo bisogno, la stampa, Juve è già domani, i bianconeri chiudono tra gli applausi e voltano subito pagina, come facciamo noi, nella rassegna stramba. Comincia l'era di Tiago Motta, sì, però prima annunciamolo sto allenatore, perché stiamo già facendo l'era, i mercati, come gioca, però se non lo annunciamo, i gol e le lacrime di Alexandro, che lascia dopo nove anni e undici titoli, anche lui ha fatto la storia della Juve, la Repubblica, Conte a Napoli, l'accordo c'è, ma è virtuale, vabbè d'altronde dopo che è passato a Milano su quella sponda del Naviglio, virtuale, deve essere una cosa normale, gol e lacrime per Alexandro, allo stadio nasce la Juve del futuro, i tifosi salutano Alexandro, omaggiato con cori applausi, nonostante il difensore venisse da due anni difficili, mai pianto così, in vita mia dice lui, e allora io aggiungo, ripartiamo da qua, torniamo a essere solo tifosi della Juve, e non ideologie contrastanti, tifiamo per la Juventus, fino alla fine, indipendentemente da chi vestirà la maglia. Facciamo qualcosa di nuovo, torniamo all'articolo, tifiamo la Juve.